ma buongiorno ma buongiorno Nalino eccoci qua il bikepacker va aspettato come al solito qua ci sono i pro e qua c'è gli addestratori di cani bisogna chiedere a Nala per favore di stare ferma e la c'è il reverendo lo scollinamento che vorremmo ripianta tutto di do di do di do che cosa che tu vuoi il di do di do di do la mano ti spaccherai che benessere con mal schialdio anche il ramo benvenuti a virolo due case di cui una crollata e l'altra abitata quanto benessere è verde si passa benessere 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 qui Cima del monte Passo K C'è dissing interno C'è demonio alle spalle E siamo alcuni in traccia Alcuni fuori traccia Perché abbiamo ben due tracce per la giornata Adesso scendiamo giù Cadiponte E si va a mangiare Qualcosa Un caffettino Aria fritta Asnelli sulle mani Piano piano Ciao 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 Madonna che dentoni Bello La rosca a sacerlo o può? Castiglioncello si Allora rosmarino freschezza in bocca è un po amarognolo mentuccia freschezza in bocca forse ci ha pisciato sopra un cane vada per la mentuccia amarissima ma buona Sono rimasti indietro siamo più veloci noi un colpo di pedale dopo ci troviamo direttamente in montana colorado ontario Quella la è Equiterme che è gemellata con Acquiterme La stazione Che benessere Quartiere a luci rosse Abbiamo mangiato molto molto bene Adesso si va a cercare un posto per piantare la tenda lungo fiume E con questa seconda notte in tenda si chiude il secondo giorno di pedalate sull'unigiana bike tra i fiume Si sente un po di fiume perché siamo nel letto del fiume Adesso si va a cercare un po di fiume Adesso si va a cercare un po di fiume Che non si va a cercare un po di fiume Che non si va a cercare un po di fiume Grazie a tutti.